Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo un paesaggio un po' fantastico di una bambina in altalena con un albero patato. Vi stiamo facendo il disegno. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark say goodnight. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really safe. I love you. I hear babies crying, I watch them crow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I'm going to go. I'm going to do it again. And I've done that. Bene. Ora che abbiamo terminato il disegno, iniziamo la parte dell'andolo. per realizzare l'albero useremo del gesso acchilico per fare proprio l'effetto dell'albero il gesso l'ho passato non in un po' genio per realizzare il gesso edo di un tempo in un po' genio Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.